Tutta la potenza dei nuovi Gormiti in soli 5 centimetri Sì! Gormiti! Piccoli, ma potentissimi Che forza! E adesso dobbiamo combattere! E vai! Combatti anche tu! I nuovi Gormiti sono fortissimi! Per conoscere i loro poteri scarica l'app Gormiti! Sblocca i nuovi personaggi e vinci la battaglia! Collezionali tutti! Gormiti! Li trovi anche in edicola Anche io li voglio! Grazie a tutti!